ecco carissimi col salmo 95 possiamo dire che veramente siamo invitati a un canto universale potremmo dire cantate al signore un canto nuovo cantate uomini di tutta la terra cantate benedite il suo nome è proprio un invito a un canto di lode a un canto di gioia ed è anche un invito all'annuncio alla testimonianza nella gioia di quanto il signore ha compiuto perché il signore ha creato il mondo e ha riportato il suo popolo alla vita grande il signore dice il salmista ed è l'unico l'unico vero dio perché da lui tutto prende origine e tutti gli dèi dei popoli sono nullità sono veramente realtà inesistenti che non hanno nessuna capacità di portare la vita di rigenerare la vita e questo respiro diciamo universale che il salmista invita a tenere in qualche modo a rinnovare ci porta anche a questo moto di esultanza che addirittura coinvolge tutto l'universo gioiscano i cieli esulti la terra risuoni il mare proprio questa a questa notizia tutto l'universo è attraversato da un moto di esultanza che va appunto dai cieli agli abissi del mare dalle regioni che l'uomo ha trasformato si parla appunto della festa nella campagna a tutte quelle parti create da dio che l'uomo ha lasciato incontaminate tutto tutto l'universo tutta l'umanità attraverso la giustizia e la fedeltà di dio non può far altro che gioire che ringraziare che lodare che riconoscere con meraviglia quanto il signore ha compiuto e continua a compiere questa è la cosa bella e continua a compierla oggi questo salmo 95 è un salmo che sta benissimo in questo tempo di avvicinamento al natale perché riprende anche quella domanda che poi è anche una conferma che ci viene da dio il signore viene il signore viene a giudicare la terra viene a portare la vita a rinnovare la vita giudicherà il mondo con giustizia la giustizia di dio che è la giustizia della misericordia accoglierà salverà i popoli nella fedeltà alle sue promesse di salvezza e di fronte a questo annuncio che il salmista ci fa di cieli nuovi di terra nuova sostanzialmente cieli e terra finalmente riconciliati appunto in questa fedeltà costante infinita di dio di fronte a tutto questo non ci resta che unire anche la nostra voce a quella di tutta la creazione come sempre la parola di dio e anche per noi oggi ora in questo momento e quindi che cosa ci dice ci dice che possiamo ancora trovare in dio la forza della vita l'energia per rinnovarla l'impegno per l'annuncio e la testimonianza e la gioia la serenità la forza le motivazioni che ci fanno comunque cantare lodare glorificare dio nonostante i limiti umani nonostante il peccato con tutte le sue conseguenze nonostante le contraddizioni ma tutto tutto veramente tutto che ha origine in dio è chiamato a riconoscere la sua presenza e quindi è chiamato alla lode per cui ancora stasera con questo salmo in questo momento possiamo ripetere quello che stiamo ripetendo in queste sere ai vespri prima del canto del magnificat con le antifone maggiori in cui sempre torna questo verbo che è una domanda al signore è un invito al signore ed è anche un atto di fede ed è quello che dice signore vieni vieni il signore viene ma dobbiamo anche chiederglielo anche per manifestare la nostra fede in questa sua venuta la certezza che questa sua venuta c'è ed è quella che porta al cambiamento della vita che genera continuamente vita nuova così come possiamo cogliere anche dai brevi paragrafi del sacro santo un concilio paragrafo 102 103 che abbiamo letto che sostanzialmente ci può ricondurre al filo rosso del tempo liturgico in cui a partire dal trido pasquale come dalla sua fonte di luce il tempo nuovo della resurrezione praticamente possiamo dire permea tutto l'anno liturgico del suo splendore e quindi tutto l'anno liturgico ci può confermare in questo stato di canto di lode di meraviglia di annuncio di fede perché progressivamente da un versante all'altro di questa fonte di luce l'anno è trasfigurato dalla liturgia sostanzialmente ci dice questo anche il concilio l'anno l'anno diciamo solare in qualche modo i 12 mesi 365 giorni del tempo umano sono trasfigurati dalla liturgia e in particolare dai misteri della redenzione a cominciare appunto dal mistero della incarnazione che stiamo vivendo in questo tempo di avvento e natale fino appunto al mistero alla pienessa del mistero della redenzione che culmina e nello stesso tempo a origine dal trido pasquale e tutto questo costituisce realmente l'anno di grazia del signore ogni giorno è grazia di dio ogni anno è anno di grazia e quella che possiamo chiamare l'economia della salvezza è all'opera continuamente nello svolgersi del tempo ma dopo il suo compimento nella pasqua di gesù dopo il suo compimento nell'effusione dello spirito santo a pentecoste la conclusione della storia è come anticipata come pregustata e il regno di dio entra nel tempo umano entra nel nostro tempo e entra a cominciare appunto dal mistero della incarnazione quindi sostanzialmente che cosa ci dice il magistero il mistero dell'incarnazione e il mistero della risurrezione permeano della loro forza il tempo umano generando continuamente vita nuova grazie a tutti grazie a tutti